Sono stati diversi gli interventi programmati dal comune nei cimiteri urbani e rurali di Fano. Ulivo e Centrale, quelli che tra le richieste dell'utenza si facevano più pressanti, soprattutto da parte di chi ha una frequentazione quotidiana ed assidua per i servizi igienici, il primo, e per lo stato di degrado di alcuni camminamenti, il secondo, che soprattutto per le persone anziane creavano apprensione, paure e anche qualche caduta. Fortunatamente, senza gravi conseguenze, le cole delle acque non a livello e lo sfaldamento del cemento creavano pericolosi avvallamenti ed una condizione di scarso decoro che un cimitero dell'importanza del centrale non doveva assolutamente avere. Ora questo problema è stato risolto per una parte, oltre ad altri interventi importanti ma di natura impiantistica, con una spesa di 10.000 euro ed altrettanti ne serviranno poi prossimamente per completare tutto il tratto interessato al ripristino e archiviare così la pratica. Siamo arrivati a un certo punto, dovremmo finire, abbiamo già messo in programma di poter continuare questo lavoro e definitivamente chiudere il problema per una cosa molto attesa da chi frequenta il cimitero centrale e quindi da molti cittadini fanesi. Oltre a questo intervento tanto atteso ci sono stati altri interventi, piccoli e grandi, sui cimiteri periferici abbiamo cercato di limitare e eliminare le infiltrazioni d'acqua. Abbiamo anche qui nel cimitero centrale sostituito molte luci ad incandescenza neon che erano nei loculi ipogei con luci più moderne e più efficaci che sono quelle a LED e quindi portano da una parte un risparmio, dall'altra parte un aumento della luminosità di questi posti che comunque sono frequentati tutto il giorno. Quindi questa è la cosa. Inoltre, in più, a giorni verrà firmato il contratto e verrà consegnato quindi il cantiere da parte del comune di Fano. Ovviamente i tempi poi dipendono dalle ditte che vincono gli appalti per la realizzazione del nuovo loculi di camminate. Quindi a camminate dopo il ponte, dopo l'asfaltatura di molte strade, dopo l'arrivo del gas anche i loculi saranno fatti, saranno iniziati a breve i lavori per cui credo che questo sia un risultato molto importante per una frazione ma anche per un cimitero comunque molto usato non solo dagli abitanti di camminate ma anche da altre frazioni.